L'indagine è stata immediatamente intrapresa, come ovvio immaginare e quindi pensare. Sono fiducioso anche in una soluzione immediata, proprio per dare una risposta alla città, circa un grave fatto. Sulle indagini vige ancora il più stretto riservo, ma la polizia di Bassano del Grappa conta di chiudere a breve il cerchio attorno al piromane o ai piromani che hanno dato alle fiamme un cipresso davanti all'istituto tecnico Fermi. Un atto pericolosissimo perché se non ci fosse stato un intervento immediato della polizia di Stato di Bassano e dei vigili del fuoco che poi tecnicamente hanno spento completamente l'incendio poteva avere dei danni, delle conseguenze ben maggiori. In queste ore sono passate al vaglio degli inquirenti tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sono state ascoltate anche alcune persone che si trovavano nell'area, ma più in generale c'è anche un appello rivolto a tutti i bassanesi chi avesse visto o sentito qualcosa contatti subito le forze dell'ordine. Questo appello che insomma viene fatto alla cittadinanza tutta, quindi in questo caso alle scuole che possono darci una mano, visto che ci troviamo nei centri studi, quindi ai presidi piuttosto che ai cittadini di passaggio in quella zona o in centro se hanno visto, hanno sentito un qualcosa che ce lo vengano a riferire in modo che annelliamo poi tutte queste informazioni.